E allora non attacca più i meridionali, attacca quelli che sono più terroni dei terroni, ma noi siamo per la solidarietà dei terroni, per un manifesto dei terroni di tutto il mondo e dire che anche Salvini è un terrone alla fine, lui forse non lo sa, ma è terrone pure lui.